Benvenuti all'edizione del telegiornale di Telemare di martedì 16 gennaio 2018. Partiamo con la firma del patto finanziario Stato-Regione entro la fine della legislatura. La stipula del rinnovo del patto finanziario tra lo Stato centrale e la Regione Friuli-Venezia-Giulia avverrà entro la fine della legislatura. Questo l'impegno espresso dai massimi vertici dell'amministrazione regionale nel corso della riunione della prima commissione consigliare che si è tenuta a Trieste. Come illustrato, questa sul patto finanziario è una negoziazione che si sta sviluppando da diversi mesi e di cui già un passaggio è stato definito nella legge di bilancio, che ha modificato il regime di compartecipazione al gettito erariale del Friuli-Venezia-Giulia. Due sono i punti sostanziali che sono sul tavolo della trattativa. Il primo riguarda la riduzione di 120 milioni di quanto la Regione versa a Roma per contribuire all'abbattimento del debito pubblico nazionale. Lo sconto che verrà per gli anni 2018-2019 è stato confermato dallo stanziamento previsto dalla legge di bilancio e finalizzato proprio al rinnovo dell'accordo. Il secondo tema della trattativa è relativo alla parte di tasse trattenute dalla Regione e del relativo passaggio dal riscosso al maturato. In buona sostanza si tratta della disposizione attraverso la quale conta non più dove vengono pagate le tasse, ma dove la ricchezza viene prodotta. Così facendo è previsto un allargamento del 50% della platea del totale dei contribuenti che portano risorse al bilancio regionale. Vengono infatti in questo modo compresi che coloro che producono in Friuli-Venezia-Giulia, pur pagando le imposte, al di fuori dei confini regionali. Questa modifica, tra gli altri vantaggi, mette anche al riparo i bilanci dell'amministrazione ed eventuali spostamenti delle tesorerie bancarie, di enti o società operanti in Regione. Il documento oggetto del confronto con lo Stato prevede anche l'estensione del numero dei tributi passabili di compartecipazione e la corretta revisione delle alicute, favorendo maggiore stabilità e certezza delle entrate. Tra queste nuove imposte ci sono quelle catastali e quelle relative alle assicurazioni, nonché la tassa di registro. L'accordo che mi è noto è l'accordo definito Tremonti-Tondo, quell'accordo non è mai venuto meno, è stato semplice. Riprende una parte dell'accordo Padoan-Serracchiani e una che la regione autonoma Friuli-Venezia-Giulia deve allo Stato a titolo di abbattimento del debito pubblico, un abbattimento complessivo di 370 milioni, ma per il 2018 e per il 2019 manteniamo tutta quella che è la disciplina dei rapporti finanziari Stato-Regione, interviene i grandi voci che gestiamo in proprio, cioè Sanità e TTI. Noi ci scontravamo con una ulteriore incertezza particolare, venivano considerate come tali solo sulla base del cosiddetto discorso, quindi per averne ditto dovevano essere riscosse in giugno e in seggiungere, che in questo è sulla base di quelle che erano le operazioni del debito. Regione Fincantieri stringono un patto per l'occupazione. Un patto per l'occupazione è la formazione che riguarda in particolare ai giovani e alle categorie più fragili di lavoratori. E' questa la cornice di cui si inserisce il protocollo di collaborazione che la Regione Friuli-Venezia Giulia e Fincantieri, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali CGL, CISL e UIL, firmeranno mercoledì mattina a Monfalcone nella sede della società cantieristica. L'accordo mira innanzitutto a potenziare l'attività di informazione sulle iniziative e sulla opportunità occupazionali, sia nei confronti dei lavoratori che nei confronti delle imprese che operano nell'indotto cantieristico, in particolare di quelle del sito produttivo di Monfalcone. Fincantieri, infatti, rappresenta ad oggi per il territorio regionale una forza occupazionale di circa 1.500 dipendenti diretti, che sviluppa opportunità di lavoro per ulteriori 600 società terze con sede in Regione. Giovani e lavoratori fragili sono, dunque, le due principali categorie dei beneficiari a cui è rivolta l'intesa. Essa, infatti, intende accrescere le opportunità di impiego e favorire processi di inserimento lavorativo, in particolare per i più giovani. Parallelamente, si pone l'obiettivo di collaborare per individuare le modalità più efficaci ed opportune per sostenere le categorie di lavoratori più fragili. Accanto all'occupazione, il protocollo pone al centro la formazione, puntando al migliore raccordo possibile fra fabbisogni formativi e offerta di lavoro, ma anche lo sviluppo di percorsi di istituzione e formazione professionali, coerenti con il sistema produttivo della cantieristica navale e del suo indotto. In questo modo, la Regione intende promuovere la qualità dell'occupazione e favorisce la crescita economica e sociale del territorio, offrendo uno specifico servizio alle comunità locali e tenendo conto delle esigenze di un mercato di lavoro in continua evoluzione. Nello specifico, l'accordo prevede l'apertura di uno sportello dell'Agenzia regionale per il lavoro presso il sito produttivo di Monfalcone. A Regione e Fincantieri si impegnano inoltre a collaborare nella programmazione e promozione di tirocini, avvalendosi anche del programma regionale People e delle opportunità offerte dall'alternanza scuola-lavoro. In collaborazione con il Polo Tecnico Professionale Economia del Mare, che ha come istituto scolastico capofila l'ISIS Brignoli e Naudi Marconi di Gradisca di Sonzo, stranzano, con il quale potranno essere avviate anche iniziative di orientamento. Infine, l'accordo include la partecipazione alle reti territoriali attiva giovani e la più vasta collaborazione nello sviluppo di politiche attive del territorio, incluso l'aggiornamento degli standard previsti dal repertorio delle qualificazioni regionali. La conferenza dei capigruppo ha stabilito il programma dei lavori del Consiglio regionale del 23-24 gennaio. La conferenza dei capigruppo ha messo a punto il programma della seduta del Consiglio regionale per la sessione di gennaio. Martedì 23 l'Aula avvierà i lavori con le risposte della Giunta ad interrogazioni e interpellanze dei consiglieri e li proseguirà con l'esame dei provvedimenti in materia di referendum regionali. In conclusione, spazio al disegno di legge ed all'enorme stralcio per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali, nelle mense pubbliche. Mercoledì 24, questo è un time ad inizio seduta. I lavori proseguiranno con l'esame del disegno di legge su ambiente ed energia, cui eseguirà la discussione della proposta di legge che reca disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido, scuole d'infanzia e strutture socioassistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio. Al termine, dibattico unico, per tre mozioni su autonomia e specialità. In febbraio il Consiglio regionale si riunirà il giorno 1 per la seduta obbligatoria prevista dallo Statuto e il giorno 2, venerdì, ma solo al pomeriggio perché alla mattina l'Aula ospiterà un'iniziativa della Corte dei Conti. Per il programma dei lavori e la calendarizzazione delle sedute d'Aula, nel primo trimestre 2018, i capigruppo torneranno ad unirsi il 23 gennaio nella pausa dei lavori. A Trieste il 20 gennaio c'è il Forum dello Sport. Illustrare alle associazioni del territorio il lavoro svolto dalla regione Friuli-Venezia-Giulia nel settore sportivo, mettendolo a confronto con quello delle altre regioni italiane e attivare un sistema di proposte concrete che produca nuovi modelli di sviluppo. Professionisti e appassionati, rappresentanti di società sportive e protagonisti dello sport, avranno l'occasione di formulare indicazioni per il futuro e di esprimere le proprie idee sulla situazione attuale. Sono questi gli obiettivi del Forum dello Sport 2018, che si terrà a Trieste, sabato prossimo 20 gennaio alle ore 10.30, al Palace Savoia Excelsior. La giornata vedrà la presenza di testimoni agli importanti rappresentanti di varie discipline sportive che porteranno la loro esperienza e sarà moderata dal giornalista Medeo Guria. L'evento sarà strutturato in due sessioni. Al mattino, in un contesto istituzionale, si farà il punto della situazione attuale in regione, confrontando nelle politiche dello sport con quelle di altri territori. Nel pomeriggio, attraverso uno dei tavoli di lavoro, si darà concretezza alle proposte che emergono da chi pratica attività sportiva a diversi livelli. Sarà possibile iscriversi fino alle ore 24 del giorno prima dell'evendo, compilando il modulo online sul sito della Regione www.regione.fwg.it, nel quale andrà indicata anche l'eventuale partecipazione ai tavoli tematici, per ciascuno dei quali è consentita la presenza massima di 20 persone. Il Forum, organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con il Comitato regionale del CONI e il Comitato italiano paraolimpico, prevede, dopo i saluti istituzionali, una tavola rotonda su sport, modelli regionali a confronto e prospettive future, a cui parteciperanno Gianfranco Noè, campione mondiale di vela, Alessandro Talotti, atleta olimpico e campione italiano di salto in alto, Michele Mian, giocatore professionista di palacanestro, e Maurizio Nombardo, segretario generale della Juventus. A seguire, nella sessione pomeridiana, si terranno quattro tavoli tematici dedicati a progetti 3S, a sostegno delle scuole, esperienza della Regione Friuli Venezia Giulia e ipotesi di sviluppo attività scolastiche. Nuove formule di management per le attività, figure professionali, nuove management degli eventi sportivi. Esperienze e confronti sulla disabilità, l'accessibilità dei luoghi sportivi e la cultura della condivisione. Nuove progettualità per la valorizzazione dello sport, come rendere attrattivi gli sport minori, estetica, allestimenti, intrattenimento, coreografia. A conclusione dei lavori, la sessione plenaria finale vedrà la partecipazione di altri sportivi professionisti che forniranno le risposte alle domande emerse durante i gruppi di lavoro e le linee guida sulle possibilità future. Francesco Russo, senatore uscente del PD, non si candiderà alle prossime elezioni politiche. Il senatore uscente del PD, Francesco Russo, non si candiderà alle elezioni politiche. È quanto ha annunciato lo stesso senatore durante l'incontro Racconti di Viaggio svoltosi a Trieste. Russo ha manifestato la volontà di tornare ad essere un semplice iscritto al suo partito e di impegnarsi durante la campagna elettorale a portare consensi al PD. Il senatore triestino tiene aperta la porta per le sfide future, qualora ci fossero le condizioni per farlo, e prosegue il suo annuncio dicendo che se ci fosse stata la possibilità di proseguire il suo lavoro a Roma, avrebbe continuato, ma attualmente mancano i presupposti. La Eton di Monfalcone è sempre più vicina alla chiusura. Futuro sempre più incerto per i dipendenti della Eton Monfalcone. I rappresentanti italiani della multinazionale americana hanno confermato la decisione di chiudere l'azienda. Secondo quanto hanno dichiarato, non ci sono i margini per aprire una trattativa sindacale poiché le contazioni economiche e la scarsa richiesta delle valvole per auto sul mercato internazionale rendono anti-economica la produzione a Monfalcone. L'azienda ha così confermato ai rappresentanti sindacali l'avvio della procedura di mobilità per i 157 lavoratori in forza nello stabilimento, a cui si aggiungono i 16 dipendenti interinali e oltre 40 operatori dell'indotto. La chiusura al dialogo della dirigenza Eton ha provocato la mobilitazione dei dipendenti e delle istituzioni pubbliche, che stanno continuando a lavorare per cercare di scongiurare la chiusura dell'azienda e il licenziamento dei dipendenti stessi. Lo scoppio di una bombola di GPL avvenuto questa mattina a Fossalon di Grado verso le 7.30 ha provocato il ferimento di un uomo di 77 anni che stava lavorando nei pressi dell'abitazione in cui è avvenuta l'esplosione. L'uomo è stato subito soccorso dai vigili del fuoco e trasferito d'urgenza in elicottero all'ospedale di Udine. Ha riportato ustioni di secondo e terzo grado alle mani al volto e non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione. A Gorizia continuano gli arrivi dei migranti. Alcuni hanno dormito all'addiaccio sotto il porticato della chiesa dei Cappuccini in piazza San Francesco. Altri hanno trovato sistemazione provvisore nella sede del Fodum di Gorizia e alla Casa del Popolo. Al momento non risultano posti disponibili al Nazareno, Abba di San Rocco e al tendone retto nel cortile dell'istituto Contavalle. Si è tenuta presso la Sala Bianca del Comune di Gorizia la presentazione della conferenza presente 1914-1918. Si è svolta questa mattina presso la Sala Bianca del Comune di Gorizia la conferenza stampa di presentazione della conferenza organizzata dall'Associazione Amici della Musica di Gorizia dal titolo presente 1914-1918 sul restauro dei registri dei militari caduti dei Sacrari di Redi Puglia, Oslavia e Caporetto, che si terrà a Gorizia il 26 gennaio alle ore 17 presso la Sala della Torre della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia. Il lavoro svolto ci sarà il maestro restauratore del Centro Studi e Restauro di Gorizia, Adriano Macchitella, che illustrerà il percorso di restauro dei registri dei militari caduti. Il lavoro di restaurio si è reso necessario per recuperare le pagine dei registri che contengono oltre 170.000 nomi scritti a mano, che col passare del tempo sarebbero sbiaditi e andate perdute. A seguito del restauro i registri sono stati digitalizzati, caricati online e resi fruibili alle famiglie dei caduti, che potranno così sapere dove sono sepolti i propri cari. La restaurazione dei registri è stata resa possibile grazie al contributo economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e dall'Associazione Nazionale delle Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra. Alla conferenza del 26 gennaio parteciperanno inoltre l'ingegner Pier Raimondo Cappella, presidente della sezione Gorizia dell'Associazione Famiglie dei Caduti e Dispersi, e il colonnello Norbert Sdorzitto, direttore del Museo del Sacrario di Redi Puglia. All'inizio della conferenza ci sarà un momento musicale con il violoncellista Marcello Cassese e al termine verrà eseguito il silenzio per commemorare i nostri militari caduti. La conferenza è stata inserita nel programma ufficiale delle commemorazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Diciamo che l'anno 2018 lo iniziamo nel migliore dei modi perché è la conclusione del centenario della Grande Guerra e sicuramente avverrà il 26 gennaio l'17 presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia. Ci sarà un momento importante perché si andrà a dar forma a un momento, un ricordo della storia. Noi ci stiamo lavorando per definirci e per identificarci come città della storia perché abbiamo tutti i requisiti per poterlo essere e questa attività, cioè il restauro dei registri dei caduti sicuramente va in questo senso perché ricordare la storia e la memoria è qualcosa che può far prendere corpo e forma e dar un certo senso quello che è stato, quelli che sono stati i fatti d'arme, quello che è stata la crudeltà della guerra ma attraverso il ricordo possiamo sicuramente capire quello che è accaduto ma soprattutto capire che la guerra non è uno strumento per cui si può e si deve trovare soluzioni, assolutamente no ed è importante ricordare questo. È importante ricordare questo ma è anche importante ricordare che attraverso questi registri si possono capire i sacrifici che hanno fatto tantissimi ragazzi che si sono ritrovati a perdere chi la vita oppure chi vivere un'esperienza veramente terribile per poter comprendere quanto una generazione, la generazione di quegli anni, di quella classe è stata privata della propria gioventù e tutto questo deve essere un messaggio oltre che storico ma anche culturale perché penso che visto che stiamo lavorando tanto a livello europeo proprio per dar vita e senso e corpo ai giovani penso che quella generazione veramente è stata privata della propria gioventù e quando viene privata della gioventù poi ne ripercuote, ci sono delle percussioni che poi avvengono su tutto l'arco della propria vita. Perciò l'invito che faccio a tutti coloro che vorranno è per il 26 gennaio 2017 Fondazione Cassa degli Sparmio Corizia per cui verranno presentati i registri restaurati dei caduti. In tutto questo ci sarà anche il direttore del Sagrato Rederi di Puglia, il coeditente colonnello Norbert Zorzitto perché sarà un momento importante, un momento dove verrà accompagnato in alcuni frangenti anche della musica perché la musica è quel linguaggio internazionale ma quel linguaggio che non ha parole ma che può far riflettere e questo è un momento che può aiutare a far riflettere. Franco Dri, l'uomo di 76 anni di Fiume Veneto che tre anni fa sparò e uccise il figlio Federico ha chiesto la grazia al Presidente della Repubblica dopo che il Tribunale di Sorveglianza di Trieste ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare. L'anziano si trova in carcere dallo scorso ottobre per scontare la pena residua di 5 anni e 2 mesi. Dopo l'ennesima lite con il ragazzo che aveva alle spalle una lunga storia di dipendenze, Dri aveva ucciso il figlio e si era costituito spontaneamente ai carabinieri. Secondo il commissario UE Pierre Moscovici l'Italia è un rischio politico per l'Europa. Il commissario UE agli affari economici Pierre Moscovici in conferenza stampa a Parigi ha evidenziato la situazione dell'Italia tra i rischi politici all'orizzonte in Europa. Secondo Moscovici l'Italia si prepara ad elezioni il cui esito è quanto mai indeciso. Quello italiano è uno scrutinio che segue da molto vicino, ha detto il commissario, e ha spiegato che è difficile immaginare quale coalizione uscirà dal voto, con quale ambizioni europee, anche se con l'approssimarsi delle elezioni tutti i partiti rivedono il loro posizionamento rispetto all'euro. La proposta di Luigi Di Maio di sfondare il tetto del 3% nel rapporto tra deficit e PIL è un controsenso assoluto, ha detto Moscovici, rispondendo alle domande dei giornalisti. Sul piano economico ha aggiunto questa riflessione non è pertinente. Il tetto del 3% ha un senso molto preciso, quello di evitare che il debito non slitti ulteriormente. A ridurre il deficit a martellato il responsabile UE significa combattere il debito, e combattere il debito significa rilanciare la crescita. Moscovici è poi tornato ad evidenziare l'alto livello del debito pubblico in Italia, che però sempre a detta del commissario è incoraggiante, perché comincia a scendere. Mercoledì 17 gennaio alle ore 18, verso il Kulturni Drum di Gorizia, in via Italico Brass 20, sarà ospite nell'ambito dei tradizionali incontri con l'autore il giornalista e politologo Tristino Bojan Bredzgar, autore del libro Sei giorni in Catalonia. Converserà con l'autore Yuri Palik di Gorizia, direttore del settimanale Novi Glass. Mercoledì 17 gennaio al mattino probabile nuvolosità variabile, specie sulle zone orientali e sulla costa, con possibili precipitazioni. Pioggia sulla costa e qualche debole nevicata in quota sulla cresta carnica al confine con l'Austria. In giornata miglioramento con cielo in prevalenza poco nuvoloso, soffierà vento da nord-ovest, da sostenuto a forte e ad alta quota e moderato invece sulla costa e debole in pianura. Giovedì cielo in prevalenza poco nuvoloso, sui monti probabile vento da sostenuto a forte e da nord-ovest, da sud-ovest invece sulla costa. Per questa edizione è tutto, vi aspettiamo al prossimo telegiornale di Teremare. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti.